Salutatolo, ma lui mi vede? Sono Millie Moratti, ciao! Ciao Millie, piacere enorme! Ma quando è che vieni qua? Dai, vieni, vieni, facciamo delle cose insieme, abbiamo bisogno di te ancora, davvero. C'era un bellissimo manifesto di lui per i campionati, era bellissimo. Te lo rimando, se no ci dimentichi. Grazie, grazie davvero. Grazie mille, grazie mille. Grazie, ciao. Grazie, ti aspettiamo a Milano, con l'idea che ce n'era il premio, lo possiamo dare materialmente. Ti aspettiamo a Milano. Dai. Sì, sicuramente, sicuramente devo questa visita a Milano, sicuramente andrò presto. Dai. Grazie. 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 Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao.